Ma quale sarà ora il governo di coalizione, obbligatorio in Austria dopo i risultati pervenuti ieri senza una vera e propria maggioranza, come ampiamente previsto in quesi lunghissimi due anni di infinita campagna elettorale? Kurz ci sta ragionando anche se una forte possibilità è rappresentata dalla coalizione con l'estrema destra di Strake. Negli ultimi mesi le posizioni di OEV e FPOE si sono molto avvicinate e soprattutto una nuova grande coalizione con il SPOE non pare essere molto probabile, specie con Kern come vice cancelliere. I rapporti sono molto più tesi con i socialdemocratici che non con la destra xenofoba, con i temi di sicurezza e migranti che ovviamente trovano una felice sponda tra il programma del trionfante Kurz e il SPOE. Oltre a promettere un taglio delle tasse, e una riduzione della burocrazia, ha fatto leva sul tema dell'immigrazione per allargare la base del suo elettorato, insistendo sulla lotta all'immigrazione illegale e la minaccia dell'Islam politico. Questo riporta la scheda di oggi della Dynchronos sul primo millenniale alla cancelleria europea della storia. E dunque, l'opzione di Kurz è segnata. Da un lato l'Europa, i favori della Merkel, e la tranquillità politica, dall'altra la spinta del popolo austriaco e l'influsso della vicina Ungheria di Orban. Kurz è pronto a virare a destra. E soprattutto, Frau Merkel riuscirà a convincere il giovanissimo leader di Vienna a non seguire le mire anti-UE di Viktor.